Può un Vescovo di Santa Romana Chiesa richiamare i suoi fedeli sui rischi che si corrono se si partecipa a funzioni e riti religiosi non proprio in linea con la religione cristiana? La risposta è semplice, sì, può. Può un Vescovo richiamare i suoi fedeli sui pericoli che si corrono dal punto di vista religioso, per carità, se si abbraccia un'altra fede e un'altra religione? Anche qui la risposta è semplice, sì, può. Anzi, verrebbe da dire per entrambe le risposte, deve. E quanto ha fatto Monsignor Michele Seccia, Vescovo di Teramo e Datri, che ha richiamato l'attenzione dei fedeli della Diocesi su alcune celebrazioni fatte nella cappella privata della Santissima Annunziata di Villa Butteri in provincia di Teramo da ministri della Chiesa Cattolica Ecumenica? Il Vescovo non ha fatto altro che ricordare la regola basilare che se si partecipa a funzioni che sono contro la morale o le regole imposte dalla Chiesa di Roma si incorre nella scomunica di Vinis. Sin qui tutto chiaro. Quello che è poco chiaro o perlomeno sembrerebbe è perché i fedeli di questa nuova religione possono incorrere in inganni. Beh, se un sacerdote mi si presenta davanti con i paramenti sacri della Chiesa Cattolica di Roma e celebra una messa dentro una cappella privata con la stessa liturgia distribuendo anche la comunione, non penso magari che sto partecipando a qualcosa che possa essere per la Chiesa di Roma eretico blasfemo. Tutti sono liberi di seguire la religione che si vuole, credere in qualcosa oppure no e partecipare alle funzioni che più ci piacciono. Dall'altra parte però non c'è la libertà di far credere ad altri di prendere parte a qualcosa che non è. Seccia fa bene a ricordarlo, così come fa bene a ricordare che la religione cattolica cristiana ha dei dogmi, delle regole e un insegnamento, che è quello di Cristo con un rappresentante dell'Altissimo in terra che è il Papa, che quando parla di religione ha ancora, solo per quella, il dono dell'infallibilità, perché è come se parlasse Cristo. La Chiesa Cattolica non riconosce i matrimoni tra omosessuali. Questa è una certezza. Tutti sono liberi di vivere la propria sessualità come vogliono, dividendo anche la vita. Ma se qualcuno pensa di poter santificare un'unione ricorrendo a celebrazioni farsa, sta ingannando se stesso e chi partecipa a quella funzione. Se ne faccia una ragione anche l'Arcigay dell'Aquila che difende le scelte dei rappresentanti della Chiesa Cattolica Ecumenica. Loro possono aderirvi e fare quello che vogliono, ma il Vescovo Seccia ha tutto il diritto, anzi il dovere, di ricordare le sacre regole dell'istituzione che lui rappresenta e dalla quale loro, per il momento, sono fuori.